oggi è il giorno di uno che gira e 30 che lavorano senti il tuo amico che sta già gridando cazzo sta già gridando col trattorino ma la fai l'inverso salta gli spalla qua e qua andiamo andiamo e lo fai dopo va dopo vai vai salta gli addosso a spalla salta gli addosso una momento sono sono ho quello che fa la giuda la giuda è è i Abbiamo il gommista e il falegnano, c'abbiamo tutto oggi, ma che tenute oggi hanno? Tenute, ora è la frizione, perché non si fa capire. E beh, lui ascolta, ai tempi delle gare non cambiamo mai una gomma, perché facevi prima cambiare la moto che la gomma. Aveva una sua moto, l'avevamo presa sulla... Spettacolo! Cazzo, mi siamo un pilota di Formula 1 o? Cazzo, è un piedio! Cazzo, sei un pilota della Madonna, eh? Inizia! 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 E vabbè... Mettete? Inizia! 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 L'acqua! La va già più il cazzo! Mi devo mettere a lavorare! Eh no, stavo facendo il Formula 1 prima, eh! Questa è già, questa è già Formula 3, quella è Formula 1, eh! Questa è Formula 3, ma questa è Tria! Eh, ascoltate! Con l'è in autostrada! Con l'è, conl'è, non va bene! Va bene! Grazie.